Beh, ciao, eh! Oggi, Raffa, allora, ma viene o non viene a prendermi? Ma son c'è pronto? Ma son tutto in tiro già? Ma come non hai la macchina? Ma non hai la macchina? Ma tu non hai mai la macchina? Anche l'altra volta non avevi la macchina. Ho capito. Ah, ne hai una sola? Ma lo so che ne hai una sola. Ah, la usa tua moglie per andare a fare la spesa. Ho capito. E poi? Eh beh, se l'amica sembra andare a fare... Ah, tua figlia, per andare a discoteca, ma adesso l'amica va in discoteca. Tuo figlio per andare... Ah, tuo figlio per andare amorosa, figurati. Quindi te non ce l'hai mai la macchina? Ah, ce l'hai quando devi andare a fare benzina. Ho capito. Va bene. Ciao, ciao. Occhio, eh! Occhio! Occhio! Occhio... Grazie.